Una crisi dopo il parto, ahimè, può arrivare, ma da cosa è causata e come possiamo gestirla? Io sono Allegra Lu e oggi vi voglio parlare di questo tema perché mi ha scritto una mamma in privato dicendomi che da quando ha avuto il bambino invece che sentirsi su, si sente giù, si sente inadeguata, triste e principalmente le sembra che tutte le mamme facciano le cose giuste e lei sempre quelle sbagliate. Allora per cercare di aiutarla sono andata a parlare con la life coach e psicologa Angela De Rosa e mi sono fatta dare qualche consiglio. Se il tema e la puntata vi piacciono mi raccomando cliccate sul pollicione all'insù e seguitemi, iscrivetevi ai miei canali social così possiamo rimanere sempre in contatto. Le osservazioni della mamma che mi ha scritto devo dire la verità che a tratti le ho provate anche io e credo non esista principalmente una mamma che pensi di star facendo tutto in modo perfetto per cui non dobbiamo assolutamente essere severe con noi stesse. Non ci sono dei ruoli in particolare quello dei genitori dove non si commettono errori quindi il perfezionismo, l'essere super esigenti con se stesse che spesso è una delle caratteristiche femminili va un po' allentato nel senso che bisogna essere serene con se stesse soprattutto e fidarsi del proprio intuito. Se invece stiamo vivendo un malessere un po' più intenso potrebbe essere che stiamo vivendo una fase di baby blues. Ma qual è la differenza rispetto alla depressione postpartum? Distinguiamo bene le cose. Allora il baby blue che ho scoperto e riguarda più di una donna su due, non lo sapevo assolutamente, avviene perché c'è un crollo ormonale e se vogliamo una decompressione dopo nove mesi di aspettativa e avviene subito dopo il parto. Proprio nei primi giorni dopo il parto la donna vive dei momenti di tristezza, tipicamente si esprime il baby blue o maternity blue, si esprime proprio con questo senso di tristezza, di mancanza di concentrazione. Ci sono un po' di sintomi, anche di disturbi magari del sonno, di inappetenza che però piano piano svaniscono, quindi è un disagio transitorio temporaneo che proprio perché per la sua natura temporanea di base non ci si agisce a livello medico, psichiatrico. Invece la depressione post partum come la possiamo riconoscere? In genere subentra un po' dopo, qualche settimana dopo il parto e che si manifesta con dei sintomi tipici generici della depressione, quindi mancanza di concentrazione, dei disturbi anche dell'appetito, inappetenza o molta fame, insonnia, anche delle mancanza di attenzione e di interesse in generale. Poi ci sono dei sintomi invece che sono specifici proprio legati alla maternità e che quindi hanno a che fare con il bambino, quindi una mancanza, una non voglia di curare il bambino, anche paura di rimanere da sola con lui, legati ovviamente molto poi al senso di colpa, nel non sentirsi in grado in quel momento in maniera reale di curare il bambino. Cosa possiamo fare per limitarla? Nel momento in cui la depressione post partum è una depressione, quindi è il frutto di una mancata parte di noi stessi che non è più espressa o è legata alla perdita di qualcosa, un buon consiglio potrebbe essere quello di ricominciare a lavorare. Ma se la depressione fosse più forte cosa si può fare? Spesso quando la depressione è più grave la persona non si aiuta da sola, non è in grado perché non ha le energie, quindi è importante che il suo contesto la supporti, quindi cure sicuramente psicoterapeutiche, psichiatriche, magari anche l'utilizzo di farmaci, ci sono degli ansiolitici, dei farmaci che possono essere presi anche durante l'allattamento. Come si può accorgere il partner o un'amica che la neomamma sta vivendo una fase di depressione post partum? Nel momento in cui vive, vede, osserva un cambiamento tra come la sua compagna era prima e come la vede adesso ad oggi, certamente quello è un segnale d'allarme, vedere che magari ha difficoltà ad alzarsi la mattina, non è attenta, non dorme poco, ci sono tutta una serie di sintomi che tipicamente, ma questo in genere è proprio anche nella depressione in generale, vengono a volte sottovalutati. Ancora oggi, nel 2019, la depressione viene vista come un, vabbè, sono un po' giù. Al di fuori dei casi più gravi di depressione post partum, mi sono resa conto, ma proprio anche sulla mia pelle, che una delle situazioni in cui noi mamme possiamo andare proprio un po' in crisi dopo il parto è con il confronto con le altre mamme e che effettivamente a volte ci fa sentire un po' incapaci, un po' non in grado di gestire la situazione, mentre le altre ci sembrano bravissime e quindi cosa ho fatto? Sono andata a chiedere alla dottoressa Angela De Rosa come possiamo sfruttare questa situazione di confronto in modo costruttivo e non negativo. Il confrontarsi in genere nelle situazioni della vita, se è un confronto positivo, sicuramente ci aiuta perché ha a che fare con il condividere, con l'arricchirci, il prendere delle informazioni che magari al momento noi non abbiamo, nel non commettere magari degli errori perché sono stati commessi da altri, portare anche la nostra di esperienza. Quindi il confronto è utile, come è utile il dialogo. Dobbiamo quindi prendere in considerazione quello che ci dicono le altre madri, immagazzinarlo perché ci può aiutare ma non mettere mai in discussione il nostro essere madri. Ricapitolando, se siamo un po' giù ci sono quattro consigli che possiamo seguire. Primo, capire se c'è e qual è quello spazio vitale che ci manca rispetto prima. Secondo, capire come poterlo riportare nuovamente in vita questo spazio vitale e farci aiutare, anche da parenti, amici, babysitter, ma farci aiutare. Terzo, confrontarci con mamme, amiche, persone che conosciamo, ma sempre a livello costruttivo. Mai applicare delle tecniche autolesioniste perché quelle non funzionano mai. Quarto, fissare quanto prima quei principi che abbiamo dentro di noi che restino solidi, che non siano influenzabili da nessuno. In questo modo, sia come donne che come mamme, ma anche proprio come individui, riusciamo presto, molto prima, a trovare il nostro equilibrio e una nostra serenità. Se avete altri consigli, mi raccomando, aggiungeteli nei commenti. Io sono Allegra Lu, seguitemi sui miei canali social, Facebook, Instagram e YouTube.